Ciao amici e benvenuti a Giulia Sa con Giulia Savulescu Giulia Sa è la rubrica in cui parlo di New School una serie tv che adoro con tutto il mio cuore e fidatevi, so tutto di New School se non l'avete ancora vista, andatevi a vedere tutti gli episodi mi raccomando Oggi parleremo dei miglior outfit di New School con la mia personale top 5 di solito sono abituata a parlare dei miei di vestiti ma cercherò di non essere troppo cattiva ma lo sarò di sicuro, mi conosco allora partiamo dalla quinta posizione con Justin, il ragazzo più bello della scuola Justin è bellissimo e adoro tantissimo il suo stile ma sinceramente lo preferisco con i pom-pom Dammi una C dammi una I dammi una H L D ma quanto è adorabile andiamo avanti al quarto posto c'è la retina di Miss Mastermind non penso se è possibile immaginare New School senza quale artina è come immaginarsi una scuola senza banchi il terzo posto va a pari merito a Tim e Tom da il pigiama sfoggiato al pigiama party anche quando si tratta di andare a dormire loro non abbandonano mai il loro stile dite che mi invito nel prossimo pigiama party il secondo posto va Anna il giorno in cui ha deciso di trasformarsi in Vivian fuori dai piedi sguatterà Anna sta cercando la luce perfetta per il suo selfie perfetto ah dimenticavo qualsiasi luce perfetta per Anna Anna ma quanto sei bella dovresti vestirti più spesso così infatti al primo posto c'è Vivian la ragazza più popolare della scuola la sua bravura consiste nell'essere sempre al top anche nelle situazioni più critiche ho detto movimento circolare non triangolare chiaro? Vivian leva solo cuoricini in questo caso cuoricini infranti e per oggi abbiamo finito noi ci vediamo al prossimo video sempre qui per parlare di New School io intanto vedo se riesco a trovare il numero di Team e Tom per farmi invitare al pigiama party ciao